musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi nel video di oggi voglio parlare con voi di alcune novità che forse non avete visto inerenti la patch 6.22 che è arrivata l'altro ieri modifiche veramente interessantissime per quello che riguarda la nostra mappa alcuni negozi alcune location ma anche ragazzi l'arrivo di una nuovissima skin che si va ad allacciare ad un particolare spray presente nel pass battaglia di questa season e che potrebbe far luce su quello che vedremo nella prossima ovviamente ragazzi vi ricordo sempre che se vi piacciono i miei video non vi dimenticate di mettere un bel pollicione in su iscrivervi al canale e attivare la campanella ragazzi se ancora non lo avete fatto allora prima di cominciare vi faccio la domanda ragazzi come al solito e voglio sapere i vostri commenti proprio qui sotto io li leggo e metto i cuoricini lo sapete che li leggo la domanda è semplicissima qual è stata la cosa più bella secondo voi dell'evento di Halloween ditemelo qualsiasi cosa ragazzi ditemelo pure sotto qua quindi cominciamo subito ragazzi parlando di una cosa interessantissima lo sapete lo saprete meglio di me ragazzi ma sono state recuperate forse non lo sapete nel gioco delle come si dice sfide speciali che regaleranno V-Bucks eccole qua ragazzi in questo momento si chiamano PCB Challenge che cos'è il PCB? lo vedremo tra pochissimo ragazzi queste sfide sono molto interessanti perché come vedete ragazzi regalano davvero dei V-Bucks ad esempio cerca i tesori cerca le casse del tesoro dei partecipanti del PC Caffè 25 casse del tesoro 75 V-Bucks o se andiamo gioca gioca delle partite con uno o più amici del PC Caffè 100 V-Bucks addirittura 30 stelle del pass battaglia 5000 punti esperienza ragazzi è un qualcosa di incredibile perché queste sfide regalano addirittura 350 V-Bucks 50 stelle del pass battaglia e 6000 punti esperienza non sappiamo nulla in realtà di queste cose ma c'è un dubbio purtroppo che pervade la community di Fortnite sembrerebbe che queste sfide possano essere esclusive solo per gli utenti di Fortnite cinese ma la cosa che ci chiediamo è se davvero queste sfide fossero esclusive per gli utenti di Fortnite in cinese perché sono scritte in inglese? punto di domanda questa è la cosa generalmente che non ci fa quadrare bene la cosa quindi potremmo davvero ottenere per la prima volta su Fortnite dei V-Bucks extra delle stelle del pass battaglia extra e dei punti esperienza completando una serie di sfide davvero davvero interessantissima questa cosa ovviamente ragazzi voglio il vostro commento anche qui sotto se pensate che sia un'esclusiva solo per i cinesi o anche per noi europei non ha senso non ha molto senso voglio però ragazzi parlare con voi delle modifiche alla mappa che abbiamo incontrato in questo nuovo update e ce ne sono veramente tante e veramente molto interessanti la prima ragazzi come vi avevo già anticipato qualche secondo fa è il PCB caffè qua lo chiamano Keyboard King che è il nome sull'insegna ma se vedete lì a destra c'è scritto PC il problema è che c'è di fianco un carattere giapponese o cinese non mi piace molto questa cosa come vi ho detto davvero molto molto figo come locale non si tratta altro che di una sala LAN in poche parole dentro al gioco con due piani adesso stiamo vedendo infatti il piano terra ma se saliamo questa scala ragazzi troveremo un sacco di postazioni strabelle da PC come vedete con dei led che cambiano doppio schermo sedie da gaming addirittura ci sono le cuffie ci sono le bibite le tastiere colorate insomma ragazzi molto molto bello senza ombra di dubbio questo nuovo caffè ma molto molto particolare anche la sua vera utilità ai fini del gioco ancora ragazzi non si sa bene speriamo ovviamente come vi avevo già anticipato che le sfide siano anche per noi ma andiamo avanti ragazzi e come sapete l'evento di Halloween è terminato e quindi ragazzi ahimè purtroppo è chiuso anche il negozio che ospitava tutte le decorazioni di Halloween come vedete ragazzi qui a Corso Commercio c'è il negozio in mezzo agli altri due negozi che non ha più insegna e non ha più decorazioni esterne ed entrando ragazzi si può ben vedere come tutto sia stato tolto forse non tutto proprio hanno dimenticato un orsacchiottino chiottino ci sta ci sta l'orso lasciato lì ha dimenticato di portarlo via molto molto carino comunque anche questo cambiamento a Corso Commercio e non è ragazzi non c'è più neanche il Gargoyle tra l'altro quindi finite credo anche le sfide ovviamente quella quella che parlavano dei Gargoyle dove dovevamo ballare davanti ai Gargoyle che erano ovviamente le sfide di Halloween ma ragazzi un altro grande ritorno con questa patch la state già vedendo ragazzi sul negozio sul mini supermercato torna l'insegna Noms chi lo sa perché ragazzi molti sono felici che sia tornata a me sinceramente non me ne frega un cacchio però è una cosa ovviamente che non possiamo non far vedere ragazzi quindi GG anche per quello e andiamo avanti ragazzi e parliamo ovviamente di un'altra cosa fantastica il Dur Burger ragazzi più vengono patchate il nostro Fortnite più modificano anche il Dur Burger ahimè ragazzi la chiusura è veramente definitiva purtroppo sembrava solo temporanea ma invece sono state barricate anche le finestre come vedete ragazzi al suo interno l'area desolata si fa sempre più sentire hanno lasciato immutati i bagni ragazzi ma hanno portato via un sacco di tavoli e praticamente quasi tutte le sedie ragazzi quindi una cosa molto molto triste è un peccato perché un'istituzione di Fortnite era assolutamente il Dur Burger ma ci sono delle grandi particolarità per quello che riguarda il nostro boschetto bisunto ragazzi perché se è vero che stanno chiudendo il Dur Burger non sappiamo se per sempre o se lo stiano spostando è anche vero che con questa pace ragazzi è apparso e lo state già vedendo il camioncino del pizza non mi ricordo come si chiama adesso lo andiamo a vedere bene come vedete c'è il camion del Dur Burger che abbiamo appena passato qui davanti a noi ma se vedete è arrivato di prepotenza un nuovo camion ragazzi quindi la pizzeria potrebbe essere insediata al posto del Dur Burger si chiama Pizza Pit come sapete ragazzi c'è anche questa particolare immagine delle schermate di caricamento l'avrete sicuramente tutti in mente dove ci sono appunto i dipendenti del Pizza Pit che vanno a inizializzare un dipendente del Dur Burger il Surgeon Griller per la precisione mettendogli in testa appunto un pomodoro gigante bisognerà capire ragazzi se questa cosa avrà a che fare anche con il proseguo della season o sarà semplicemente una side story che potrebbe andare avanti giusto per dare un po' di brio al nostro Fortnite e come state già vedendo alle mie spalle ragazzi ultima modifica importantissima della mappa finisce anche ovviamente l'era di lande ragazzi come state vedendo i campi tornano normali le case tornano normali così la casa così come anche i granai e ragazzi tra l'altro vi invito ad andare a vedere le aree corrotte del gioco se andate a vedere ragazzi ogni area corrotta sta cominciando pian piano ad essere di nuovo ripresa dall'erba che sta crescendo ragazzi quindi anche qua si segnerà la fine di un'altra era di Fortnite non sappiamo se i vulcani rimarranno attivi oppure no ma vi invito ad andarle a vedere perché ragazzi è davvero molto molto interessante niente ragazzi io volevo parlarvi di una skin segreta ma mi sa che stiamo un pochettino sforando quindi ve ne parlerò domani mattina non vi preoccupate vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in live ciao